Ciao, sono Alessandro e siamo qui alle porte del nostro headquarter di Milano, nella nostra area test, per andare più nel dettaglio ad approfondire le caratteristiche tecniche di due autentiche fuori classe, fuori serie, su cui siamo riusciti a mettere le mani. Stiamo parlando della Villier Zero SLR e della Villier Filante SLR in dote al Timastana la scorsa stagione. Le abbiamo ricondizionate cuscinetto dopo cuscinetto per voi, ma ora dobbiamo andare a vedere cosa le rende uniche, cosa le rende distintive, cosa le rende delle bici da sogno. Una breve premessa, sicuramente utile per capire di che mezzi stiamo parlando, è il fatto che entrambe queste biciclette siano state studiate da Villier per essere perfettamente intercambiabili e che si adattano alle esigenze degli atleti in base alle occasioni. Altra caratteristica che le accomuna e le rende vincenti è sicuramente la colorazione del telaio. È una colorazione cangiante che balza subito all'occhio, dove abbiamo anche la trama, la tramatura con l'alabarda, che va a renderle veramente, veramente tra le più apprezzate del World Tour. Partiamo dalla miraglia del team. La Zero SLR. Zero. Perché zero? Perché è veramente un peso piuma. È stato fatto un lavoro di arrotondamento, utilizzo di composito ad alto modulo, tra l'altro brevettato Villier, per andare a ridurre il più possibile il peso, senza rinunciare naturalmente a rigidezza ed elasticità del telaio. Stiamo parlando infatti di un telaio che pesa 780 grammi e di una forcella che pesa circa 300 grammi. Cosa differenzia Zero da filante? Sicuramente il carro. Abbiamo un carro con dei foderini minimali, da una linea veramente sinuosa, che vanno ad installarsi poco sotto il reggisella. Parlando invece della filante SLR, quindi il modello più aero di Villier, andiamo subito a notare una particolarità. Anzitutto il peso, 870 grammi, quindi poco più di un etto rispetto alla sorella maggiore Zero. Perché questo peso? Perché c'è il design asimmetrico del telaio. E noi l'abbiamo definito asimmetrico. In cosa consiste? Sono soluzioni tecniche che Villier ha applicato nel fodero lato freno, lato disco, e anche nel fodero del carro lato guarnitura. Questo perché l'adozione di maggiore composito, quindi di maggiore materiale, è stata adottata dove ci sono le maggiori aree di stress. Quindi, se non andiamo a compromettere l'aerodinamica, andiamo comunque a conservare caratteristiche di rigidità davvero uniche per una bici aero. Andando invece ad analizzare le caratteristiche comuni di queste due biciclette, salta subito all'occhio la forcella. Forcella che è allargata, quindi i foderi hanno una distanza maggiorata rispetto alle forcelle tradizionali. Questo porta a due vantaggi. Uno, l'adozione di uno pneumatico più largo, in questo caso per esempio abbiamo un 700x28, che assicura ai ciclisti moderni, sia ai professionisti che agli amatori, una maggiore impronta su strada e quindi maggiore comfort e performance di guida, anche in caso di tornanti veramente tosti, ma soprattutto permette una canalizzazione dell'aria all'interno, senza andare a incidere direttamente sul ciclista, su di noi. Questa soluzione è inoltre arricchita da una chicca che hanno queste biciclette, che è stata studiata da Mavic. Questa chicca, cosa permette di fare? Permette di avere sì il perno passante, sia anteriore che posteriore, ma a sgancio rapido. Rimanendo sull'anteriore, altra caratteristica che ormai è in adozione su tutte le bici World Tour, ma di cui Villier è stata precursore, è sicuramente l'assenza totale di cavi, grazie al manubrio alare, l'alabarda, dove il passaggio cavi è completamente integrato. Anche in questo caso abbiamo due vantaggi. Il primo vantaggio è, nuovamente, un flusso di vento che non incontra le resistenze dei cavi e quindi va a disperdersi col telaio. dall'altra sicuramente una maggiore rotazione da parte dello sterzo e infine, a noi piace sicuramente un'estetica d'impatto e un look veramente pulitissimo ed elegante. Come dicevamo, appunto, queste sono mezzi da professionisti e hanno un montaggio da professionisti, verificato e certificato dai nostri meccanici. Il gruppo elettronico su tutto il primo lotto che avremo a disposizione è il Dura-Ace 11 velocità, lo stesso appunto adottato in gara dai prof e top di gamma del marchio giapponese. Le ruote varieranno, ma leggermente, tra tubolari, ci sarà qualche ruota tubolare, qualche configurazione invece clincher, ma avranno tutte il profilo da 40, quindi anche in questo caso versatili sia per velocità e scalate, ma anche aeronautica. Ruote che appunto sono by wheeler e sono nuove di divenna. Il peso è sbalorditivo. Stiamo parlando di due bici, 6,8 kg per la filante montata, 6,5 kg per la zero montata, che per due bici disco, parlarne qualche anno fa sarebbe stato veramente come raccontare una barzelletta ai product manager. Villier ce l'ha fatta. Grammo più, grammo meno, ragazzi. Qualche configurazione, un disco più grande va a, o la taglia più grande, vanno un pochino ad aumentare o a diminuire il peso. Ma stiamo parlando veramente di due pesi. Grazie, ci vediamo alla prossima. Grazie. 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 Grazie.